La strage silenziosa prosegue. Sono 23 nuovi tamponi positivi all'RSA Casa Serena di Mezzana, alle porte di Prato. Tra questi 14 degenti e 9 operatori sanitari, numeri che aggiornano il totale della struttura 36 con 3 decessi. La prima visaglia della focolaio era arrivata già nella giornata di Pasquetta, quando una donna ospite della struttura ricoverata all'ospedale Santo Stefano per la frattura di un femore sottoposta al test risultò positiva. Poi i risultati dei tamponi a tappeto disposti dalla regione toscana hanno confermato i timori delle autorità sanitarie. Gli operatori positivi sono stati messi in quarantena a casa loro e sono stati rimpiazzati. Nelle prossime ore l'Asla Toscana Centro si confronterà con la direzione dell'RSA per comprendere se creare una task force e gestire direttamente la struttura, come è accaduto per altre case di riposo. Quella di Mezzana è soltanto l'ultima RSA ad essere stata travolta dalla Covid-19, aggravando un bilancio già pesantissimo. Sono oltre 100 infatti le vittime toscane da coronavirus nelle residenze sanitarie e assistenziali. La procura di Prato e quella di Lucca hanno aperto due inchieste per accertare eventuali negligenze. La prima sull'RSA di Comeana, nella comune di Carmignano, dove ci sono stati sei decessi. La seconda sulla casa di riposo Paoli Puccetti di Gallicano, dove sono morti quattro ospiti. La procura di Pisa sta ancora valutando se aprire un'inchiesta sulla gestione dell'RSA a San Diano a Forcoli e Leoncini a Pontedera. In entrambe sono morte tre persone. Hanno già annunciato esposto infine i familiari delle vittime delle RSA Fabri Biccoli di Bucine.